Tra i saliscendi nel cuore del paese e poi immersi nel verde il passaggio nella campagna adiacente in un percorso certo incantevole per gli spettatori a bordo strada lì ad ammirare le gesta degli atleti impegnativo a dir poco per i protagonisti della gara podistica tutto questo è macchia in corsa con la gara competitiva di 9,7 chilometri e la manifestazione non competitiva di 5 dopo lo stop forzato durato ben tre anni nel pomeriggio di ieri nel paesino alle porte di Sernia la quarta edizione dell'appuntamento sportivo ad organizzarlo l'associazione sportiva Freerunners Isernia con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Macchia di Isernia del CONI e della Fidal Molise e con la collaborazione della Proloco Macchia tra gli spettatori più entusiasti dello spettacolo proprio il sindaco di Macchia Giovanni Martino è stata una giornata magnifica siamo felicissimi di aver ospitato la quarta Macchia in corsa soprattutto siamo molto contenti perché questa manifestazione non è solo una gara podistica ma è una manifestazione che tocca vari temi e siamo contenti proprio per questo motivo e siamo felici di poter dare il nostro apporto alla Freerunner che poi è l'associazione organizzatrice e promotrice della Macchia in corsa La gara nel ricordo di Antonello Siravo venuto a mancare nel 2019 Lello, sottolineano gli organizzatori, era un simbolo per Macchia di Isernia e un punto di riferimento dello sport nel Molise Sì, assolutamente sì, tutto questo è fatto nel ricordo di Antonello Siravo che è un nostro carissimo amico che è stato uno dei fautori di questa Macchia in corsa quindi è il nostro spirito guida in questo momento e credo che lo sarà per me personalmente ma anche per tanta gente per tanto tempo Sì, molto impegnativa ma corsa davvero per il cuore e per una giusta causa quella che conosciamo tutti quindi un saluto e questa vittoria la dedico a Lello Sì, è stata una gara molto tosta, specialmente la fine però è stata comunque molto bella È stata tosta anche di testa, ci ho creduto e ho tenuto fino alla fine Sono soddisfatta di come andata anche come prima gara su strada 10 km anche per me che non è la biciclina, sono tanti E dopo il passaggio al traguardo dell'ultimo partecipante le parole all'insegna della soddisfazione per la efficace sinergia tra le diverse associazioni partecipanti da parte di Dino Mucci, presidente di Fidal Molise Una bellissima gara, una bella giornata di sport ha accumulato sia la gara per i giovani, per i più piccoli sia la gara per gli agonisti Una gara che finalmente si ripete dopo tre anni di stop Per me venire a macchia è sempre un benvenuto e un benvenuto è per la federazione avere società che si interessano, che si impegnano per portare ancora lustro alla nostra regione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti